Ragazzi, ragazzi, l'azione di oggi è dedicata agli Stati Uniti nell'Ottocento, in modo particolare vedremo tre argomenti, due li ho già gettati la scorsa lezione ma li riprendo, uno è nuovo. Vedremo nell'Ottocento la nascita vera e propria della nazione a partire dall'espansione della frontiera, quella che si chiama poi l'espansione a Occidente, la corsa dal West, l'epopea dunque del Fair West, che porta con sé, lo sapete, la corsa all'oro. Dunque nell'Ottocento gli Stati Uniti hanno un'espansione dalla East Coast verso la West Coast e questa espansione porta con sé appunto una corsa all'oro. Questa espansione è ulteriormente abbinata ad un avvenimento triste, su cui spesso non si riflette, non ci si soffre abbastanza dei programmi scolastici di sicuro, questo avvenimento è il massacro degli indiani d'America, dei nativi. Il terzo argomento di questa lezione è la seconda tappa più che mai decisiva per la nascita dei Stati Uniti d'America e della guerra di secessione americana, la cosiddetta guerra tra nordisti e sudisti, tra le giubbe blu e le giubbe grigie. Facciamo che affrontare l'argomento adesso in modo tale da portare gli States, gli Stati Uniti, in un sorta di solblocco dalla rivoluzione americana delle 13 colonie appunto gli Stati Uniti di Lincoln e della guerra di secessione. Poi riprendiamo la rivoluzione francese, altrimenti è uno spezzatino storico. Va bene? Partiamo dal primo punto, l'espansione verso ovest. Questa espansione verso ovest è figlia chiaramente di un paese che è in crescita. È un paese che è in crescita perché c'è entusiasmo, l'indipendenza dall'Inghilterra ha creato entusiasmo, c'è crescita economica, nuovi abitanti giungono dall'Europa, giungono dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Francia, ma giungono poi anche dall'Irlanda. Da molti paesi europei continuano a giungere nuovi abitanti e ci troviamo in presenza a un certo punto di tre quasi Americhe. Facciamo questa fotografia. Abbiamo sempre il nord-est, industrializzato, abbiamo detto il Massachusetts, il Connecticut, abbiamo detto ovviamente New York. Questo nord-est è la parte del paese che nell'Ottocento subisce e attiva un processo forte di industrializzazione. Nunca un nord-est industrializzato, ci sono dei centri urbani importanti, New York, Boston, Philadelphia, centri urbani con dei porti, dei porti mercantili, il porto di Boston, Philadelphia, New York, porti ricchissimi di scambi commerciali, ottenute l'indipendenza economica e politica dall'Inghilterra, sono porti che commerciano con la Spagna, che commerciano con l'Olanda, che commerciano chiaramente con la Francia, che commerciano con l'America Latina, che commerciano in modo globale, ecco anche la globalizzazione, dunque di porti ricchissimi. E in questi porti ovviamente è l'ondata migratoria di irlandesi, italiani, francesi, appunto inglesi, gallesi, scozzesi, russi, ok? L'ondata migratoria di quelli che nell'Ottocento vanno verso gli Uniti si concentra lì. Cioè non parto, facciamo anche un salto fino all'Ottocento quando c'è la nostra emigrazione, io non parto dalla Calabria della Sicilia e vado, ok, nel South Carolina, nella Virginia, nella Georgia, dove ci sono piantagioni, agricoltura. No, parto perché ci sono ancora gli schiavi a un certo punto e poi c'è la condizione di bracciantato che non è attraente per gli immigrati. Gli immigrati partono e cercano di andare nell'industria, nelle grandi città dove cercano delle case, degli alloggi, di scantinate da affittare o cercano di lavorare nella ristorazione, nel commercio, appunto, nell'industria. Dunque sono le città del nord-est ad attirare flussi migratori, va bene? Dunque il nord-est da sapere industrializzato, i porti, i ricchi, i fiorenti, i commerci e nascono lì chiaramente anche poi le banche, gli istituti di credito. New York non diventa il centro delle banche, delle borse mondiali dall'oggi al domani, è un processo nel nord-est ricco industriale, nascono gli istituti di credito e c'è già il legame banche, industrie, armatori, costruttori di navi, porto, è chiaro, è un capitalismo industriale. Il nord-est diventa motore di un capitalismo industriale all'avanguardia nel mondo, progressivamente nell'Ottocento. Non è quello inglese, chiaramente, non è forte come New York, può essere Parigi, può essere Francoforte, Berlino o Londra, ma inizia quest'area del Nord America ad essere ricca, fiorente, di scambi commerciali, di concentrazione, di capitale. Li vado, porto del capitale, richiedo capitale per fondare un'azienda, un'impresa, un'industria. È chiaro? Il nord-est, ovviamente. Dunque una mentalità protestante, calvinista delle origini che si evolve verso un capitalismo avanzato, un capitalismo libero scambista, ok? Sì, ma con anche esigenze di protezione e dopo ci arrivo. Dunque non è soltanto libero scambio, ma anche sempre più necessità di uno Stato che intervenga a tutelare gli interessi di quei gruppi imprenditoriali di quelle banche. Ci torno dopo, prima foto. Secondo fotografia, il sud. Il sud che non vuol dire ancora, Florida, non so, ogni un Messico, quelle che erano le colonie del sud che si stanno ampliando, nascono nuovi stati. Si fonda su che cosa? Il sud, i stati del sud, del sud-est e poi anche del sud-centro. Si fonda sulle piantagioni, coltivazioni di cotone e dunque di frutta, di verdura, cotone da portare per l'industria tessile inglese, per l'industria tessile belga, va bene? Dunque parte il cotone, il cotone semilavorato, verrà caricato su delle navi e verrà poi portato nell'Europa, dove la rivoluzione industriale tessile sta di fatto crescendo, sta aprendo le proprie ali, nel senso che sta dispiegando la forza. L'industria tessile inglese dominerà il mondo all'inizio. Il cotone è la materia prima per poter dare impulso all'industria tessile. Molto di questo cotone, non tutto, perché c'è il cotone che arriva dalla Scozia, c'è il cotone che arriva dal Galles, c'è il cotone che arriva anche da queste aree, ma poi c'è il cotone che arriva dalle piantagioni americane. Le colonie dunque del sud hanno prodotto degli stati che nell'America sono ancora agricoli e sono ancora dotati di grandi piantagioni con gli schiavi, schiavi neri che sono i discendenti di quegli schiavi portati, deportati nel Settecento dall'Africa centrale, ragazze del Senegal, della Nigeria, dell'Africa centrale o delle coste africane, la costa d'Avorio. Dunque gli africani, l'asiento, la tratta degli schiavi negrosi, i negri che portati dall'Africa nel Settecento hanno avuto dei figli, hanno figliato, hanno prodotto figli e nipoti e oggi i figli e i nipoti di quegli schiavi sono ancora schiavi che lavorano nelle piantagioni. Va bene? La tratta era stata vietata nei Stati Uniti a un certo punto, intorno al 1806-1810, la tratta degli schiavi non c'è più, ce n'è ancora illegale, che temi quasi di oggi, qualcuno illegalmente continua ancora a trafficare schiavi ma quelli che ci sono sono i figli e i nipoti. Dunque ufficialmente gli Stati Uniti, la Costituzione, la libertà, nessun uomo nasce schiavo, nasciamo liberi, ha fatto sì che gli schiavi rimanessero ma ha fatto anche sì che la schiavitù come tratta fosse riconosciuto illegale. Ci sono ancora i traffici illegali ma rimangono soprattutto gli schiavi, i figli e le figlie, le nipoti e i nipoti degli schiavi del Settecento. Va bene? Dunque le piantagioni del Sud. Qual è il ceto dominante? Il ceto dominante è il ceto dei grandi proprietari terrieri. Cominciate a ragionare, classi sociali, gruppi di interesse, il mondo di oggi è molto, molto ancora figlio, se non figlio e nipote della rivoluzione industriale del Settecento e dell'Ottocento e nipote di questi grandi cambiamenti. Al nord avete un ceto imprenditoriale industriale bancario. Negli Stati del Sud avete un ceto dominante che è di proprietari terrieri, di grandi proprietari terrieri che dunque non vivono la dimensione tu hai aperto un'azienda, tu un'azienda, tu un'industria, ok? E vogliamo anche essere in parte sostituti allo Stato, protetto perché la competizione ci può danneggiare, va bene? Ma negli Stati del Sud ci sono pochi grandi proprietari terrieri che grazie al lavoro schiavista ok? Possono mettere sul mercato cotone, mais, legname, cotone e mais soprattutto, barbabietole, frutta a bassissimo costo perché tanto il costo del lavoro tende a zero perché è prodotto dagli schiavi. Dunque un lavoro alienato, sfruttato, derubato quasi in maniera totale perché lo schiavo lavorerà 15 ore, in cambio di 15 ore, 12 ore, 10 ore, cosa avrà? Un letto in cui dormire, l'acqua, il riso, la farina, va bene? I figli potranno vivere con lui nel capanno, quello è il salario, ti do quanto ti basta per poter vivere e aver la forza per magari la tua moglie a un certo punto l'ho fatta diventare in via col vento, dopo ci arrivo a presentare via col vento, Gable, Rossell O'Hara, eccetera eccetera, la figura della Mami, come voi l'ha visto, via col vento, il film della storia del cinema è che è stato più visto e è incassato di più perché lei va tutti in America andando a vedere il cinema, il cinema è sempre stato il divertimento meno costoso, da quando il cinema è stato inventato il cinema è ancora attualmente il divertimento meno costoso, la discoteca, il teatro, lo stadio, i palazzetti, qualunque cosa costa comunque di più tendenzialmente che andare a uno spettacolo, potete andare a vedere dai 6 euro agli 8 euro andate al cinema, già all'epoca, anni 30, 40, 50, il cinema è il divertimento meno costoso, quando uscì via col vento, un filmone, la guerra tra nordisti e sudisti, tutti gli americani non solo corsero a vederlo, c'è questa figura di Mami, che è una donna del sud, che cosa fa? Lei guarda i bambini, li allevano, dunque alcune schiavi, schiave diventavano poi dopo schiave di casa, che in realtà gestivano la casa, facevano il bucato, preparavano il pranzo, la cena, è chiaro? Stati del sud. E poi cosa c'è? E poi c'è l'altra parte, questa è un po' la novità principale del sud di oggi, nord-est, sud-est che va verso il centro e poi c'è il west, le terre nuove da conquistare, carovane di uomini che partono e vanno appunto a conquistarsi terre, a edificare nuove città, nuovi villaggi con quella regola che avevo detto, che quando si raggiungono le 50.000 unità si può chiedere al governo federale e al Parlamento, dunque il congresso federale, il congresso e il governo valuteranno che cosa, fatta questa legge, se quello Stato, se quella comunità di uomini, di donne, di abitanti, possa a tutti gli effetti entrare a far parte della federazione in qualità di Stato membro e dunque da 13 a 14, 15, 16, 17, 18, 19 e si va avanti, ok? Si arriva poi negli anni 40, 50 sino alla costa occidentale, la west costa, si arriva al Golden State, alla California, uno degli ultimi stati di questa prima fase. Chiaro che gli ultimi stati, ve l'avevo già detto, sarà appunto gli Hawaii, Alaska, tra gli ultimi stati, gli Hawaii l'ultimo, poi diciamo negli anni 50 e del 900 nascono gli Hawaii. Nasce lo stato della federazione americana, detto appunto degli Hawaii, va bene? Cioè gli Stati Uniti portano dentro questo complesso di isoli, va bene? Questi altri territori sono il far west, quello che l'iconografia, dicevo ieri, filmica, vi ha già presentato, vi ha narrato, chiaramente, con tutto quello che è il west, l'epopea dei Cowboys, l'epopea dello sceriffo, l'epopea delle taglie sui ladri, sui indesiderati, l'impiccagione, il duello, tutte cose romanzate dai film americani, in Italia da Sergio Leone, con gli spaghetti west, se l'avete visto, no? Qualche dollaro, più, c'è, 300, il buono, brutto e cattivo, va bene? È chiaro? Questa è l'espansione. Questa espansione prende il nome di frontiera e cresce anche il mito della frontiera. Vi faccio subito un collegamento. Quando gli Stati Uniti negli anni 50 del 900 saranno in lotta con l'Unione Sovietica per andare nello spazio, il primo uomo nello spazio, lo mandano i sovietici, i gagari, ok? Ma poi l'allunaggio arriveranno gli americani, sono i tensi. Quella, in America, sarà chiamata la nuova frontiera, lo spazio. Come noi ci espandemmo verso l'Occidente, verso il West, edificammo questa grande nazione, così ora la nostra espansione è l'espansione nello spazio. Oppure l'espansione dei diritti umani. Noi ci espandiamo e proclamiamo dei diritti umani e delle libertà, espandiamo la frontiera dei diritti umani. La frontiera è un concetto tipicamente americano perché loro hanno avuto una frontiera espandibile. Ma noi qua in Piemonte, stretti tra dei giganti, la monarchia delle monarchie, la Francia, insconfiggibile militarmente e non occupabile da nessun punto di vista per Savoia o per l'Italia. E dall'altra parte, uno degli imperi più longevi secolari, l'impero asburgico. Ma quale espansione della frontiera ci può essere, ok? Nell'Italia, ok? Ma vale per la Francia, il Belgio o la Germania. Potete parlare di espansione della frontiera per Roma, eventualmente, ok? Ma dalla nascita degli stati nazionali, a partire dal Trecento, questo scorso anno, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e poi gli stati regionali. Qua è Volterra, qua è Milano, dalle signorie degli stati regionali. Tutte e un po' di tutti e al massimo si fa la guerra non per l'espansione della frontiera, ma per conquistarmi quel pezzo di terra, quello sbocco sul mare, quel confine, quel lago e riportarlo nella mia comunità, nel mio stato, nella mia nazione. Invece qua c'è una terra da conquistare, sì. In questa terra c'è qualcuno. In queste terre, i territori del nord-ovest, ok? Quelli che sono in risico adesso, che lambiscono, va bene, il Canada verso l'Alaska. Tutti questi territori, nell'espansione della frontiera, sono abitati, perché i nativi d'America, le tredici colonie, le avevano già respinti un po' verso l'interno. I nativi d'America, ve l'avevo detto, parteggiano per l'Inghilterra, si alleano con l'Inghilterra nella guerra e non potevano fare diversamente, avevano già parlato. Perdono e i nativi d'America, sconfitti dalla nascita dei Stati Uniti d'America, vanno verso l'entroterra, ma neanche lì hanno pace, perché sia i nativi d'America verso le terre dei Grandi Laghi, verso dunque il Canada, sia i nativi d'America del Centro America, non so, la terra del Montana, del Kansas, tutti questi nativi si vedono di fatto attaccati dall'esercito federale. Quando l'esercito federale decide di supportare i coloni, nascono i stati, questi stati che nascono entrano in conflitto con la nazione indiana. La nazione di indiana è un'idea, c'è l'idea di noi indiani, scoppiano le guerre, a un certo punto interviene direttamente l'esercito, ve li ricordate alcuni personaggi? Va bene, eccolo qua, il generale Caster, nelle sue battaglie ovviamente contro gli indiani, va bene, sono tutti realmente esistiti, ok? E lui, l'icona per eccellenza, Toro Seduto, va bene? Toro Seduto è stato uno dei più anche duri e longevi avversari degli Stati Uniti, è chiaro, della federazione statunitense e dunque hanno ovviamente prodotto queste guerre nel secolo di fatto, da fine Settecento a fine Ottocento, più di dieci milioni di morti. Perché gli indiani sono massacrati? Così vi faccio il collegamento da sapere questo, sul termine genocidio, perché sono massacrati? Perché hanno combattuto. Dunque non parliamo giuridicamente di genocidio, perché gli indiani, i nativi, i Cheyeni, i Sioux, gli Apaci, i Tomoc, i Pellerossi, non sono stati sterminati in quanto appartenenti a quella razza, ma sono stati sterminati perché non si sono arresi. Perché se loro avessero detto, noi ci arrendiamo, accettiamo il vostro modello di sviluppo, entro a far parte dell'Ohio, del nord-south Dakota, entro a far parte dell'Alabama, entro a far parte del Montana, entro a far parte dell'Illino, tutti gli Stati sono i suci, non di meno. Se noi accettiamo, se loro avessero accettato questo modello politico, ma vuol dire modello anche culturale, vuol dire modello economico, non sarebbero stati massacrati, magari schiavi, magari isolati, ma dovevano accettare quel rapporto con la natura, che è un rapporto di natura diverso. È diverso. Il bisonte, come utilizzano il bisonte gli indiani? Il bisonte utilizzato in maniera integrale, senza spreco, cioè la pelle per vestirmi, per fare le tende, il grasso per avere grasso o per il fuoco, per ungere, per fare dei lavori o per ovviamente scaldarmi e avere proteine d'inverno. La carne viene essiccata, il fiume, non erano buoni, c'erano le guerre tra indiani, ma erano guerre tra indiani in un controllo, non erano neanche nomadi, c'erano delle aree in cui stazionavano, ok? Ma vivevi con il ciclo della natura, con la frutta, con la verdura, con gli animali, che gli americani, loro direbbero siamo noi veri americani, i cowboys, gli statunitensi, hanno l'idea dell'allevamento dell'industria di bestiame, sono quelli che inventano la carne in scatola, capite? Di questo stiamo parlando, cioè gli americani, con il progresso tecnico, chimico, eccetera, eccetera, ok? Le strade, le ferrovie, l'elettricità, uno può dire è il progresso contro la tradizione immobile e vedetela voi, ci sono 12-13 milioni di morti però e c'è un modello che era compatibile con l'ambiente e il nostro modello invece lo sapete produce delle grandi anche problematiche ambientali, certamente il progresso tecnologico ha anche migliorato la vita, la comodità, lo spostamento, la salute, ma ha anche creato l'inquinamento. Gli indiani, se avessero vinto gli indiani, impossibile, non avrebbero sconvolto il pianeta così che abbiamo fatto noi, è chiaro, noi dovremmo ereditare qualcosa della cultura indiana, ok? C'è un proverbo irochese, vedi qui quando c'è in lezione più, vengono mille collegamenti, sul libro non c'è nulla, non c'è, molti di questo non ci sono. Proverbo irochese, no? Irochese attribuò appunto agli attivi d'America che sosteneva che cosa? Che ogni padre deve lasciare al proprio figlio la terra, più sana, migliore di come l'ha presa. Cioè la natura non è un'eredità ma è un prestito. Ditemi voi di che cultura stiamo parlando. La nostra? Vivo 80 anni, molti anche di imprenditori, di industriali in giro per il pianeta, ma non solo, anche di cittadini. Vivo 80 anni, questi 80 anni, che io abbia tutto per me nel godimento e nell'accumulo del consumo. Vabbè, qualcosa è per mio figlio, ma mia nipote non lo vorrò neanche. È chiaro? La mentalità è completamente diversa. Io vivo qui e ora. E qui e ora devo realizzare il massimo e il meglio per me. Gli attivi d'America, che hanno questo rapporto molto forte con madre-natura, ok? Pensano che la natura vada preservata addirittura meglio di quanto non lo sia per i miei figli. È una cultura estremamente diversa. Vi ripeto, nessun mito del buon selvaggio che lo scorso anno avete già decostruito perché non esistevano i selvaggi buoni, ma semplicemente un diverso rapporto con la natura. Dopodiché c'erano le guerre tra gli indiani, c'erano le loro ingilosie, invidie, battaglie, ma certamente non c'è l'idea che apportano gli statunitensi, che è industria, coltivazione, meccanizzazione, treno, corso all'oro. Loro lo usano al massimo come che cosa? Come ornamento. Noi per loro ci ammazziamo per loro. È chiaro, loro non ci ammazzano per loro. Ci ammazzano quando loro capiscono che possa servire per comprare armi. Altro elemento, e poi passo e vado oltre, ve l'ho già accennato forse la scorsa lezione, l'alcol e i liquori. Dicevo ieri, siete conto che l'alcolismo, che tra l'altro è oggi una delle piaghe diffusissime dentro le riserve indiane, ma all'epoca la diffusione dell'alcol, vendere il loro alcol, creò chiaramente morti, di disagio, malattie, perché? Perché erano delle civiltà che l'alcol non lo conoscevano. Invece ovviamente gli americani statunitensi, derivando da francesi, da olandesi, da inglesi, spagnoli, che in parte l'alcol come patrimonio genetico lo avevano elaborato, conservato e trasmesso, lo potevano reggere. A parte che poi in quelle vite lì si beveva tantissimo, perché commerciare pellicci, in guerra, al corso all'oro, bere non è mai cambiato, ragazzi. Oggi tanta gente il sabato sera deve bere per divertirsi, certa gente smette di lavorare nel cantiere, deve bere per piacere, perché ti solleva, ti dà... In guerra, la prima guerra mondiale riempivano di grappa i soldati, cioè bere è un modo per sopportare la vita quando è dura, quando c'è dolore, quando c'è freddo, voi capite, è una cretinata chiaramente, perché anzi l'alcol poi dopo, quando finisce l'effetto immediato del calore, ha talmente abbassato la tua difesa immunitaria che tu senti il freddo molto, molto di più. Tutti errori chiaramente dal punto scientifico, biologico, però si faceva. Dunque l'alcol all'epoca ce n'era veramente a bizzeffe in Stuniti. È chiaro? Queste due cose le avete capite? Il corso all'oro, va bene, il massacro degli indiani. La questione degli indiani è stata sollevata in maniera significativa un po' negli anni 70 dagli storici, 70 del 900. Ma gli anni 70 del 900 sono rivoluzionari per la storia. Fini anni 60, lo sapete, anni di contestazione, di cambiamento forte, anche di processi rivoluzionari, e nasce la storia degli ultimi. A partire dagli anni 60, anni 70, la storia, che è una disciplina sempre in evoluzione, ma anche recente per alcuni spazi, ma come tu ci è recente in molte sue evoluzioni, la storia è diventata storia sempre più sociale, dei costumi, la storia anche degli ultimi, degli sconfitti. È iniziato un filone di storia e ho cominciato a raccontare la storia non dalla parte di Colombo, magari degli indios, non dalla parte di nordamericani, ma degli indiani, non dalla parte solo dei più ufficiali militari, ma dei soldati della prima guerra mondiale. Capite la storia dal punto di vista di chi era un granello, un ingranaggio, di chi era un meccanismo subalterno, di chi era un marginale. Tutti gli studi di storia che partono dal punto di vista delle donne pensate, dunque di soliti marginali, nascono fino ai 60, anni 70. Oggi avete tantissime tipologie di fonti. Un tempo la storia la facevi con i documenti ufficiali, trattati, accordi, monumenti. Dunque la storia ufficiale dei governi, dei capi di Stato, dei leader. Invece la storia la fai attraverso i costumi, attraverso il racconto orale, attraverso la musica, attraverso i documentari, tante cose. Cosa accade? Perché andiamo alla guerra civile nordisti e sudisti? Perché gli Stati Uniti che stanno così rigogliosamente nascendo si spaccano? Questa espansione presenta un problema molto grande. Gli Stati Industriali, sempre più, hanno bisogno di un governo federale centrale, il governo, quello che ieri hanno presentato appunto Lorenzo e Marco, che intervenga economicamente a sostenere la produzione industriale. Dovete sapere tutto. Dazi doganali, investimenti. Vogliono un governo interventista più protezionista. E' chiaro? Perché hanno bisogno di un legame forte banche, industrie. Va bene? Invece gli Stati del Sud, con le loro grandi capacità di tenere basso il costo del lavoro con gli schiavi, non vogliono dati doganali. Perché i loro prodotti, quando escono dai loro Stati, sono non solo concorrenziali, più che concorrenziali, rispetto al grano del cotone prodotto nei posti in cui non c'è la schiavitù. La schiavitù diventa l'elemento centrale intorno a cui ruoterà la guerra di secessione, nordisti e sudisti, ma non perché da un lato i buoni e dall'altro i cattivi. Chiaro, io sono un po' incontento che Lincoln l'abbia abolita. Io sai che sto con Lincoln nel gioco della storia, perché io bisogna capire all'epoca dove sei stato ubicato realmente. Però Lincoln abolisce la schiavitù, grande passaggio. Ma intorno alla schiavitù non c'è solo il tema dei diritti degli uomini, delle libertà, c'è un tema economico. I nordisti vogliono abolire la schiavitù, considerandola sempre più disumana, considerandola anche un vincolo troppo grande per la crescita poi economica. Perché queste persone vanno anche lasciate poi libere nel poter anche costruire la loro attività, bisogna abolire la schiavitù, disumana economicamente, con un laccio, un lacciolo. I sudisti gli dicono, sapete perché potete abolire la schiavitù? Perché è quello che rende ricchi gli stati del sud. Noi siamo competitivi, produciamo tanto grazie agli schiavi. No, potreste produrre tu con dei lavoratori. No, non è vero. E poi siete così sicuri che i vostri lavoratori siano trattati meglio dei nostri schiavi? Questa è una forma molto bella, i sudisti. Ma nelle vostre fabbriche, nei vostri porti, i vostri marinai, i vostri operai, vivono una condizione di lavoro, di salario, migliori i nostri schiavi. I nostri schiavi dormono nelle case dove dormiamo noi. E la ripeto, questa argomentura è bella. I vostri dormono in catapecchi, in topaie, in quartieri di delinquenza, si ammazzano per un tozzo di pane. I nostri schiavi vivono, magari nella cascina, vi dicevo, o nel cappannone, dove dormiamo noi. E servono i nostri tavoli. Penso che i figli degli schiavi possono giocare con i nostri figli. I figli degli operai del nord, dove sono? Ok? In mezzo alla strada a chiedere dell'emosina. I sudisti, ricordatevi, amanti della Grecia antica, ok? Si sentono quasi greci dell'antichità, che come i greci erano gli schiavi, gli hanno anche loro per, però, progresso, felicità. Ma cosa state dicendoci? Voi volete avere la schiavitù? Non perché volete i diritti delle persone, ma perché volete danneggiare noi del sud. No, non è vero, vogliamo la libertà e dovete voi smetterla di applicare delle leggi ad hoc soltanto nei vostri stati. Bisogna arrivare a una legislazione unitaria. No, sì, no, tensione. Si spacca il partito, ad esempio. Quali erano i due partiti che c'erano? I due partiti che c'erano negli Stati Uniti d'America erano appunto i democratici, va bene, i politici democratici e i Wix. Entrano profondamente in crisi. Perché? Perché i democratici, che non sono quelli adesso, si identificavano sempre più con i proprietari terrieri del sud. E allora nasce un altro partito del nord, dei nordisti, che si chiamerà Partito Repubblicano. Dunque, il partito democratico a metà ottocento, non cadete poi come delle perecotte all'orale, verifica. Il prodemocratico nell'ottocento è il partito più legato ai proprietari terrieri e più legato agli stati agricoli latifondici del sud. Qui, qua. Il partito repubblicano che nasce, di cui fa la parte Lincoln, il partito repubblicano sarà più legato agli stati industriali del nord. È chiaro? Dunque nascono il partito democratico e repubblicano su una scissione potentissima rispetto al tema della schiavitù, 1860, viene eletto. Abramo Lincoln. Abramo Lincoln diventa presidente degli Stati Uniti d'America ed è un uomo nuovo, è un uomo dell'Ovest, va bene? È un democratico, nel senso che crede nella democrazia, arriva dalla famiglia però di agricoltori del Kentucky, è un avversario della schiavitù, va bene? Questo avversario della schiavitù però non è un totale abrogazionista, vorrebbe cominciare a ridurla, vorrebbe cominciare a abrogare una parte, va bene? Dunque Lincoln comincia a portare avanti il tema del superamento graduale della schiavitù e da presidente degli Stati Uniti fa queste proposte, queste proposte creano ovviamente una spaccatura gigantesca all'interno degli Stati Uniti d'America, perché? Perché gli stati del sud non accettano nessuna discussione sull'abrogazione parziale, quanto si voglia, della schiavitù e dieci stati del sud, la Virginia, il Carolina del nord, Carolina del sud, la Georgia, il Mississippi, l'Arkansas, il Texas, la Louisiana, li vedete, l'Alabama, questi stati fondano la Confederazione, i confederati, cioè escono dagli Stati Uniti. Ragazzi, ragazzi, poteva qui finire una storia e iniziare in un'altra, avessero vinto loro. Questi dieci stati dicono, non sono passati cent'anni dalla Stati Uniti, dicono, noi ci togliamo exit, Brexit, exit, exit, USA exit, escono dalla Federazione degli Stati Uniti d'America, ok? È una secessione, secessione vuol dire ci separiamo, secesso, non separato, si separano dagli Stati Uniti d'America, non riconoscono il governo federale, non riconoscono le politiche di Abramo Lincoln. È chiaro? Abramo Lincoln, va bene, punto lì, non riconosce, a sua volta, colpa dei Stati Uniti, la loro uscita. Le non ve ne andate, è chiaro? Dunque si viene a creare la contrapposizione tra gli Stati, ovviamente, della Federazione, Maine, Vermont, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Rolanda, New Hampshire, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Illinois, Kansas, Oregon, California, tutti gli Stati della Federazione, questi territori non sono ancora stati, non c'è ancora il Nevada, non c'è ancora l'Utah, il Dakota non è ancora diviso tra nord e sud, il Nebraska non c'è ancora, il Montana non c'è ancora, il New Mexico non c'è ancora, tutti questi Stati devono ancora diventare Stati membri, non c'è ovviamente l'Alaska, non c'è chiaramente l'Hawaii, ok? Questi, ok? Dieci Stati contro gli altri restanti Stati, ok? 17, 18, ma chiaro? Avete dunque la guerra di secessione tra i nordisti, i federati e i sudisti, i confederati, ripeto, i federati, i federali, Giacca Blu, Lincoln, il loro presidente, va bene? Detti i nordisti. Sì? Chi siete? Ma sì, ovviamente, guarda che cosa appare, ovviamente, se Giacca Blu appare su, adesso riesco a trovare una divisa, eccola qua, eh, avete qualche collezione, no, da un tempo c'erano questi modellini in America, è questa qua, è la divisa, ok? Della guerra di secessione americana, dei nordisti, sono l'unione, gli unionisti, anche quelli che vogliono, ovviamente, l'unione. Giacca grigia, ovviamente, i sudisti, così li avete ben presenti, eccoli, se c'è, se c'è, se c'è, una colori, non ci appare, ah, ecco perché, i confederati, confederati, non ne ho sentito neanche ancora bene, però eccola qua, è apparsa, va bene, eccola qua, i sudisti, i nordisti sudisti, è iconica, è iconica, blu, grigi, nord, sud, leggo e secessione, il martedì ci torno, ops, guerra civile, la guerra civile è tra persone che appartengono a uno stesso comunque paese, una stessa comunità, molto divisi, eh, perché uno della South Carolina non si sente simile a uno di New York, uno adesso del, appunto, il Massachusetts non si sente, della Virginia, ma rimane una guerra dentro lo stesso Stato. I confederati, nonostante la loro inferiorità di Stati, nonostante l'inferiorità numerica, perché sono stati meno popolosi, nonostante i meno soldi, gli altri hanno le banche, giustamente appare, è evoluto, è quello di Boeduk, la macchina per primo, avete visto Azar Boeduk, lo conoscete? Un telefilm degli anni Ottanta, poi sarebbe fatto anche un film, la macchina si chiama Generale Lee e ha sopra la bandiera, questa famosa dei confederati, bandiera che poi è anche legata agli Stati del Ku Klux Klan e del razzismo, tra poco ci arrivo, però, perché si chiama Generale Lee la macchina di Azar, perché questo Generale, il Generale Lee, è il capo dei suddisti, è talmente bravo, talmente un genio militare, che riesce, con meno uomini, con meno armi, con meno soldi, a portare avanti la guerra per quattro anni, non era pari, i nordisti, li avete visto che Stati erano, gli Stati industriali con tanti soldi, con tanti uomini, hanno molti più armi, molti più cannoni, molti più fucili, il Generale Lee, muovendo le truppe, con tecniche anche in parte di guerriglia, riesce a tenere testa ai nordisti per quattro anni, ma dal 61 al 65, nel 65 i confederati, i suddisti, i secessionisti, devono ammettere ovviamente la sconfitta. Vado in chiusura, ho il quattro, ce la faccio, che vi sia chiaro una cosa, è la prima guerra totale, c'è la preview della prima guerra mondiale, è qui, la preview della prima guerra mondiale è qui, 600 mila morti, è la guerra più sanguinosa di tutto l'Ottocento, nelle guerre napoleoniche, né chiaramente le guerre risorgimentali italiane, né le guerre tra Bismarck e Napoleone III, le vedremo poi, nessuna guerra nell'Ottocento ha prodotto il numero di vittime che ha prodotto la guerra di sezione americana tra i suddisti e i suddisti, 600 mila morti, qual è il campo di battaglia? Sì, ci sono campi di battaglia all'aperto, ma è una guerra totale perché c'è già il coinvolgimento dei civili, di donne che a casa cucciano la divise, oltre che le fabbriche ovviamente di divise, ho chiaro, di industria alimentare che deve dare cibo, va bene, ai soldati impegnati, va bene, i soldati in guerra quando finivano le battaglie magari venivano ricoverati in ospedali costruiti dove ci sono le prime forme di medici di guerra, sono gli anni in cui nasce la Croce Rossa, la Croce Rossa nasce negli stessi anni in Europa, in seguito anche alle guerre tra europei in cui l'utilizzo di cannoni, di polvere da sparo, di fucili, di pistole, i semi più grandi produce questo ovviamente numero di morti, qua siamo arrivati a Colt, siamo arrivati ai fucili, è chiaro, non sono più gli archibugi, questa guerra, 600 mila morti, perché? Perché non vado più all'arma bianca o metto polvere da sparo, perché io ho sei colpi nel tamburo, tre colpi, due colpi, va bene, e sparo, 600 mila morti, perché sono cambiate le armi, l'americano ha le armi automatiche. Questa guerra porta alla liberazione degli schiavi, perché il primo gennaio del 63, la legge che è approvata nel 62, la legge diventa applicata, attuale, e viene appunto promulgata, è la vittoria nordista che sancisce la fine della schiavitù, è la nascita di fatto di una grandissima potenza, è un superamento della schiavitù, dei ure, perché viene abolita, ma non de facto. La reazione degli stati del sud sarà durissima, nascono il Ku Klux Klan, White Egemoni, White Power, nascono in questi stati, Texas, Georgia, Carolina del nord del sud, Arkansas, nascono le associazioni paramilitari, cioè di gente che a casa le armi, eserciti privati dunque, illegali, ma se tanto fa parte il gruppo parlamentare, lui che è lo sceriffo, lui che è il pompiere, e poi dopo i soldi al Ku Klux Klan gli vengono dati, dal proprietario della piantagione, gli vengono dati da quella banca, gli vengono dati da quel medico, da quel notaio dell'Alabama, il White Power sul Ku Klux Klan, diventa dei gruppi parlamentari che fanno attentati, attentati contro i federali, contro quelle come si immagina l'FBI, contro quelli che sono i poliziotti della federazione, va bene? E fanno ovviamente azioni di terrorismo contro i neri, le case di neri incendiati, i neri ovviamente che vengono arrestati e vengono poi bruciati con delle famosissime, tristemente note ovviamente, croci. Eccolo qua il Ku Klux Klan, gli incappucciati bianchi, la croce, questa è la vostra fine, brucerete, brucerete, è chiaro consiglio che vi do ovviamente, cinematografico, uno lo conoscete già, vi dovreste guardare, Django o Di Tarantino, Django, la storia di un uomo unchained, un uomo liberato, lui viene affrancato da questo immenso attore, che è un dentista camuffato, che lo libera, lo affranca, e Django avrà un obiettivo, andare a liberare sua moglie, che è schiavo, è un attenuto, è una piantagione, il film è tarantiniano al massimo, ironia, splatter, pistolate, pistolettate, c'è un Samuel Jackson che fa il nero, che ha assunto il punto di vista del suo padrone, a Candyville, che è un immenso roller di Caprio, cioè il nero capo degli schiavi, ha lo stesso punto di vista del suo padrone bianco, dunque Django dovrà anche scontrarsi con quei neri che accettano la schiavitù, dunque Django che è ambientato nell'Ottocento, guardatelo, di Tarantino, e se volete vedere ancora che cos'è, questo qui mi piacerà tantissimo, io non ho proprio tempo ragazzi di farvelo vedere in classe, ma vi consiglio di vederlo, se lo vedete magari all'orale ve lo chiedo, o mi dite voi, guardatevi Mississippi Burning di Alan Parker, è ambientato negli anni 50 in questi strati del sud, due ragazze di colore scompaiono, sono stati uccisi, viene ritratto la loro macchina poi in fondo a un lago, arrivano gli uomini di legge, il vecchio che ti dice ti insegno adesso come si fa un'indagine, e il giovane idealista William Defoe e Gene Aquan a capire chi li ha uccisi, c'è il Ku Klux Klan, c'è la polizia locale, gli sceriffi con i loro uomini legati al Ku Klux Klan che hanno ucciso due ragazze di colore in vista, siamo negli anni 50, del superamento di quella discriminazione de facto, perché l'abolizione è avvenuta già con Lincoln, ma in questi stati, nel Mississippi, i neri ancora sono perseguitati, non possono andare a scuola, non possono salire sui pullman, se non i posti riservati ai neri, non possono fare certi lavori, non possono entrare nei bar, si sta cercando di superare questa discriminazione e segreazione, questi due ragazzi che sono degli attivisti per i diritti umani, vengono uccisi, arrivano i due uomini della legge, e devono capire chi li ha uccisi, è un pugno allo stomaco, questo film, e c'è una figura di donna, non voglio spodere troppo, molto importante, che è la moglie di uno di questi poliziotti, violento, maschilista, macista del Ku Klux Klan, che sceglierà da che parte stare, è Mississippi Bernie di Alan Parker.